Buongiorno da Ilenia Morgana e da Si è già visto cosa facciamo vedere Si è già visto cosa facciamo vedere No vabbè, però la novità del momento qual è Morgana? Queste due fast-tops Le 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 LOL Surprise Charm Feats Questo è il loro costo 4,90 euro, le potete trovare in edicola Si, ma spendiamo un velo pietoso sul costo di questa cosa Perché dentro comunque abbiamo un tatuaggio Da dito Un E un ciarmino E questa è la E insieme a questa bomba Notare quanto è grande Aspetta, facciamo vedere Quanto è Minusca Che sono le stesse che si trovavano nella Nella Big Ball Ok Allora, questo qua è il manualetto Che danno insieme La rivista Come la chiamano loro Qua c'è Il prezzo Lo vuoi sfogliare io? Lo vuoi sfogliare tu? Vai Morgana Si vede? Certo che si vede Ok, partiamo Parla, non parla di Ma comunque non Non ha su un Una checklist Non so neanche Leggetevelo Così, sorpresa Aspetta che vediamo Di metterlo un pochino a fuoco Vai Ok Ok Qua Si, qua Dice qual è il tuo stile Ti dice di leggere un pochino Vari accessori da mettere Se vuoi assomigliare a qualche cantante Che ti perri ci piace Almeno a me che ti perri piace molto Strano, no? Fashion, moda, colori Vai, mo Qui parla un po' del fashion Delle città più fashion Del fashion nel mondo Milano, New York, Londra, Parigi Si vede qualcosa E Tokyo Vai Uno stile da star Lo sapevi che Bla 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 Sì Moda gourmet Diciamo che non è molto Le regole della moda Molto esaltante Come Come fashion E questo Forse è più bella la parte finale Diciamo che Non Devo prendere la forbice già lì La forbice già qua Noi abbiamo preparato una piscina gigante La bacinella Ma tanto Allora Premetto Non ne prenderò altre Perché comunque Io inizio a aprire una Perché sennò durissimo Intanto io le faccio vedere Questa Amore me la fai far vedere prima Ok Poi non riesci Questa qua è durissima Ok io Allora questa qui è la Come facilità Bomba da bagno Qua si vede che dentro c'è la checklist Vedere se si vede C'è la checklist Eh sì è Molto esaltante Ok Vi fa vedere che dovete buttarlo Allora vi fa vedere il tatuaggio da dito Qui c'è la Aspetta Morgana Ad aprile Che lo apriamo insieme Vai Vai sotto così lo apri Wow Che apertura Wow Cos'è anch'io? Amore Un attimo Questa qua è durissima Se vuoi provare Ma Ok Ma qua c'è il solito foglietto Che Sto provando Vedere se riesco E qua c'è la checklist Che Apri la Falla vedere Ti faccio vedere Aspetta che è seduta sfocata Questa inquadratura qua nuova Fa un po' Schifio Ok Questo è quello che potete trovare Tra l'altro ho scoperto che questa Dov'è? Questa qua La racchetta Fa da pentola Fa da racchetta È un po' Un tutto fare Ah ok Ok qua ci vede già la nostra No lì c'è la plastica Ancora Sì poi sotto qua Questa cartina qua Non serve a niente Vi spiega che è una Bomba da bagno E poi si apri anche Se riesci apri l'amore Falla vedere? Sì No Sto facendo vedere No Giusto giusto Mirko C'è la checklist dentro Aspetta che Stai un po' Più inquadrato Ecco Spaccato la checklist Benissimo Mirko è un disastroso Scusate Aspetta Tanto che ti aiuto Ecco Guarda Ti ho avuto da sola Eccolo lì Vai Intanto se si sente c'è Mirko Magari il cavalletto Evitiamo di dargli dei calci Ti aiuta? Ok Io qua l'ho aperta E sotto qua Abbiamo il nostro tatuaggio Fai vedere che bello Cosa c'è? Ah c'è l'adesivo Devi stare un po' più Una bottiglietta C'è un bibero Aspetta Mamma Intanto c'è Milady e Tigre Che stanno Fai vedere anche l'adesivo Che non l'hanno vista Quando non vuole mettere a fuoco Non si capisce chi è comunque Sembra tipo la curcetta Mirko Eh ma guarda che sei completamente fuori Mirko sei completamente fuori Mirko l'ha trovata verde Io l'ho Aspetta Ah sono diverse Vediamo Mirko cosa ha trovato Aspetta amore che facciamo vedere Allora questo è l'adesivo che ha trovato lui Guarda chi è? Cos'è? I fiori Mamma mia non vuole mettere troppa roba sotto Non riesce a mettere a fuoco Dei fiori E questo è Oh guarda cosa ha trovato lui Che è il caglionino? Posso fare anche io? Adesso lo facciamo No Guarda la bottiglietta Non ci credo Mamma mia qua questo cavalletto qua Non ci credo? Non ci credo? Portate pazienza Eh ragazzi Allora Io lo sto aprendo Guardate Sì L'abbiamo già fatto vedere No non abbiamo trovato il panino Perché sono due cose completamente diverse Perti il panino Perti il panino Io lo sto aprendo Sì aspetta che la facciamo vedere No ma Scusate ma io voglio farvi vedere Milady soprannominata Fifi Se la lasciavi stare Mirko Soprannominata Fifi Ok questa è la nostra bomba lavagna Annusiamola Dai Cos'è un misto fragola? Posso io? Io La metto dentro? Aspetta La mettiamo insieme Ok Sì Prendiamo insieme Posso io? Sì amore Quello fai tu Bella la verde Aprendo Allora questa qua è quella che ha aperto Mirko Posso aprire? Aspetta che la annusiamo Sembra quasi uguale il profumo Oh non schizzate che c'è il telefono 3 2 1 Ok Mentre Sono praticamente Non sono altro che bombe da bagno Intanto Che Loro Fanno No no lasciale Lasciale Intanto le mettiamo qua Che loro Mentre che fanno Volete fare il tatuaggio intanto? Sì Allora Mirko vuoi fare il cagnolino e la bottiglia Cagnolino Io il cagnolino L'ha trovato Mirko Allora Andrà a venire la prossima volta E' un'altra partita Morgana Io la faccio dire tra le quinte Invece Mirko la fa nel video Com'è che funziona? Così ne? Così Vuoi farlo sul ditino o vuoi farlo sulla mano? Sulla mano Sì Perché per te C'hai il ditino piccolo Mettiamo così? Eh Sì Intanto ci attacchiamo bene Intanto ci attacchiamo Intanto lo bagniamo Che bello Li adoravo quando ero piccolina Io il tatuaggio Anch'io E certo tu sei piccolo Anch'io adoro il tatuaggio Non si stacca perché? Vuoi dire che sono così imbranata Che non sono capace a farli? Eccolo Eccolo Fala vedere Senta Non c'è un fuoco Guardate che bello E dov'è carta? Carta qua c'è l'ho in mano io Oh mi è venuto male Mi è venuto un po' male Allora aspetta che lo facciamo vedere il tuo Anche se è venuto male Aspetta magari si può aggiustare Grazie Eh sì finché è bagnato in teoria Che bello mo Bu Lasciate stare che intanto apriamo Sapete cosa facciamo? Intanto che qua frigge Mettiamo da parte Qua mettiamo da parte Ok dico io apro le bustine E apriamo Con il mio nuovo tatuaggio Apriamo questa Vediamo cosa Troveremo se siamo fortunate O no Giustamente Ma Oh ma è una volta che si apre come si deve aprire? Ormai siamo imbranate Nel frattempo senti come frigge Aspetta che Sembra un banana C'è una banana No Morgana Eh no Morgana La devi lasciare Ok Sì andrebbero fatte nella vasca da bagno Non dentro nella ciotolina Però Eh vabbè Allora Noi non ce l'abbiamo Andiamo a spulciare Spulciare Oh l'indizio Un cuore infranto No No Sì Io so che indizio è Io no Un cuore infranto E una coscia di pollo Sì ma è cagnato Black e leg A leg Poi L'indizio è quello più bello di tutti Intanto sta intravenendo lì La sorpresina dentro delle bolle Eh intanto vengono a gallo Dopo le tiriamo su tutti insieme Allora la bolle è rosa Il blanco c'è questo che è asciutto E' rosa Questi sono i nostri bellissimi E' rosa Ma sì ma l'importante L'importante è non trovare un doppio Vabbè però è bella Ragazzi Ti doro Ok Allora tiriamo via qua Tiriamo via qua Questa è ok Oh ancora Una Vediamo In teoria non dovremmo avercelo Tutto bagnato il coso Se ti metti qua Morgana Anche loro vedono cosa stiamo trovando E abbiamo trovato Ok Ho capito che Anch'io Speriamo che sia Cambia colore Vai Intanto Cerco Provo ad aprire la La sabbietta Ok C'è questo C'è il suo biberon Ok Qua abbiamo Eccolo Eccolo Ce l'abbiamo E' doppia Io avevo capito Io no Avevo capito che era un'altra Ma già da questo si capiva Fa niente Io la volevo dire ma E vabbè La scambiamo Non dovremmo Non dovremmo avere problemi A scambiarla sul gruppo Vediamo Qua dentro ci sono Le scarpine Vuole prendere la sozzicarente Ma lo facciamo dopo Tanto Aspetta Mirko Lascia Lascia dentro Lascia C'è un pallone C'è un pallone Questo è quello che trovate dentro Io li metto lo sciaglio Dopo li togliamo Li metto lo sciaglio Non stiamo a metterli Perché già il video è lunghissimo così Comunque sono le scarpine Di Super Kitty Le nostre mi sembravano più Abbiamo trovato lei La facciamo vedere Allora Con sulla goccina d'acqua Abbiamo trovato Questa Del Theater Club La Super Kitty E Piange O Fa la pipì questa Sì Vuoi che provo? Non è che si colora con l'acqua? No Fa pipì No Volevo dire che piange No Non la proviamo Dai Allora Vediamo cosa abbiamo trovato Io ho trovato Palla Una palla Una palla Allora Vai Morgana Mi sembrano uguali No Una palla Allora Una è una palla da basket E l'altra È una palla da calcio Wow E la palla da calcio è mia No è mio E come facciamo adesso a sapere Chi era quella di Mirko E qual era quella di Morgana Allora L'acqua è tutta verde Eh sì perché Allora come che si ha Questo è di quello Aspetta Quello lì è quello della Quello di Morgana Mio mio E questo è il mio Non riesco Una palla Io ce l'ho fatta Allora Diciamo che Eccolo Quasi 5 euro Guarda che ho lo zaino No Ma cosa c'entra Vabbè Si becco le lol Si becco Oddio Potevano fare delle lol in miniatura Forse erano più carine Però Questa È il charm Non so questo dove si possa attaccare Sì Mirko Tieni È mia palla Sì Adesso Salutiamo Ciao Con su purchiti doppia La Bu Vi salutiamo E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao